Sì sì, ci siamo e benvenuti a tutti quanti voi da Vittorio Gessinesi, sono con Lorenzo Giusto, auguri passati per ieri, ovviamente il suo compleanno è stato ieri e oggi siamo venuti a percepire il da bere, siamo qui per fare un collaudo tecnico, siamo all'interno del Polo Museale, la Fondazione Seca ha messo a disposizione questa splendida, bellissima struttura per queste macchine da scrivere, ecco splendide macchine da scrivere, ve le faccio vedere, abbiamo il sole da questo lato giusto perché siamo un po' come dire mezzo abbronzati e mezzo di faccia al sole, siamo in Piazza Duomo, facciamo vedere che siamo in Piazza Duomo, ecco giriamo la camera così potete vedere che in questo momento siamo praticamente al primo piano dove si può vedere la cattedrale, lì c'è un'auto che attende con gli invitati da sposa, da questo lato c'è il palazzo della Corte di Appello delle Puglie, il Tribunale della Corte di Giustizia, mentre ritorniamo da questo lato per parlarvi di che cosa? Eh di Jumping in the Square, è arrivato? No no no, devi dirlo così, bisogna ricordarlo che l'appuntamento si chiama Gran Galà del Salto Internazionale in Piazza, quinta edizione, Jumping in the Square, questa è la cosa più impostata, e la voce impostata per dire solo questo, bene, appuntamento ovviamente con la vostra associazione di atletica, eh sì, ci siamo, siamo 8 luglio, siamo arrivati, domenica prossima, domenica prossima, bravo, 20, 20 e 30, si inizia con questa quinta edizione in Piazza Duomo, quindi l'elite di Trani, l'elite del mondo, come dicevo nella conferenza di qualche giorno fa, basta vedere Salto con l'asta Parigi, Madrid, Barcelloni, Roma, adesso Trani, Piazza, un sogno che si avvera, però, è arrivato, è vero? No, infatti, abbiamo creduto, le previsioni sembrano buone, ricrociamo le dite, ma ormai abbiamo visto che il tempo ci assisterà, quindi siamo contenti per te e soprattutto per la manifestazione che si sta per diciamo avvicinare, questa domenica ci saranno un parterre di atleti, il top è stato con l'asta mondiale, finalmente rivedremo saltare perché è venuta qui a Trani nel 2014 la campionessa cubana Yaris El Silva, poi per due volte purtroppo per i infortuni o per blocchi nazionali cubani non è potuta più venire, invece quest'anno abbiamo Yaris El Silva, la cubana, la vedremo saltare, la campionessa del mondo. Attenzione, oltre a Yaris El Silva ci saranno anche altre grandissime astiste e astisti a livello mondiale, non parliamo solamente del nostro o dei nostri pupilli tranesi, che sono tre, e qui alla fine ho visto un video bellissimo, dove i tuoi piccoli pargoletti del 2030 diventeranno anche loro astisti, bellissimo, sulla pagina Facebook di Lorenzo Giusto ho visto i primi due o tre ragazzini che si stavano preparando per diventare astisti Infatti come dico alla fine i nostri tranesi sono figli del jumping, ti hai visto crescere proprio tu, eh? Tant'è vero che tu sei uno di quelli che proprio nasce dalla scuola di jumping che è fatta in modo molto terra terra, chiamiamolo così. Ci abbiamo creduto proprio dalla base e siamo arrivati a questi livelli conosciuti nel mondo, quindi è un sogno per Trani, è un sogno per tutti noi e per me ci ho creduto fino ad oggi. Oltre a Yaris Le Silva Rodriguez, chi altro abbiamo? Rob Ennis Peinado, bronzo dei mondiali del 2000, direttamente da Venezuela, non stiamo parlando di cotica Europa fatta così a mano. Dal Sud America ci spostiamo agli USA, Stati Uniti d'America con Megan Clark. Megan Clark, andate a vedere su Wikipedia, questi personaggi hanno fatto dei personal best incredibili. E poi ne parliamo di più. Oggi stanno gareggiando a Lausanna nella Diamond League, tutte e due, Yaris Le Silva è proprio esplendato, quindi parliamo di Diamond League che è il top del circuito internazionale fisica. Ti fermo un attimo, voglio vedere che cosa sta accadendo in piazza Duomo. Ecco c'è la sposa, infatti in diretta, la sposa che si sta, come dire, crogiolando con i suoi parenti ed amici. In questo momento, proprio in questo momento, siamo dal Polo Museale della Fondazione Seca, ritornati in diretta. E niente, siamo in diretta in americana, ritorniamo a Cuba, dove abbiamo Lazzaro Borges, argento dei mondiali del 2011 con 5,90 metri. 5,90 metri? Non lo rivedremo, non vi aspettate il 5,90 metri. Però già ha fatto stesso di superare il 5 metri. Speriamo di che superi il record della piazza di Giorgio Piantella. Mi ricordo in piazza Previscito, 5,51, che tutti in piedi per Piantella. Infatti, del dopo Rubbiani del 5,50. Caprani per Rubbiani. Per Rubbiani, bravo. Poi passiamo agli italiani, attendiamo con ansia Roberta Bruni. Roberta Bruni, attenzione, questo è un nome che dovete scrivere a caratteri capitali. Roberta Bruni viene da un 5,30 a Rieti, fatto due o tre giorni fa. Cercherà a Trani di agguantare questo 5,45, che sarebbe un trampolino di lancio per arrivare a Berlino, quindi agli europei di Berlino di agosto. Quindi spingeremo tutti con un applauso a Roberta affinché possa fare questo 5,45. Bene, c'è anche Gianfranco Fabiano che sta guardando la luna, non leggi bocca, c'è un sole crescente. Gianfranco, ma noi abbiamo una riunione, quando stai? Sì, sta giù, ha detto che sta giù, sta guardando la diretta per sapere quando ci sbrigiamo. Tra un po' ci sbrigiamo. Arriviamo, arriviamo. Continuando dopo Roberta Bruni. Roberta Bruni, Francesca Semeraro. Francesca Semeraro, altra nostra conoscenza del fatto con l'asta a Trani. Gianfranco, italiana categoria cadetti, adesso è arrivata la categoria promesse, ma è ancora una grandissima assista. Passiamo agli italiani, tra i maschietti, dopo Lazzaro Borges abbiamo Gino Colella, un cognome sempre locale, infatti è fuggiano. Figlio d'Afte, allenato dal padre Antonio Colella, nipote del famoso professor Luigi Colella. Abbiamo delle conoscenze nell'auto del salto con l'asta. Però, americano, vive in America. Direttamente in America, arriva in Italia per questo salto con l'asta. E infine i nostri tre grandi tranesi. Diciamo che i pupilli sono loro. Nascono praticamente con... Diciamo che è una cosa che nasce e cresce con loro. Però il fatto che abbiano raggiunto dei personal best ognuno di loro, soprattutto nell'occasione del Jumping in Square qualche anno fa, è stato spettacolare. Vedete Joseph Boccaforno, qui abbiamo anche degli altri che ci stanno salutando nell'ambito. Cioè, fresco del 482. 482, Joseph. Ha battuto un ciclo. Questa volta che lo deve fare? Non lo sappiamo, vediamo. Speriamo che vogliono. Ah, Ilario ovviamente è uno dei tuoi istruttori, insomma. Da lì è nata praticamente questa voglia della passione. Francesco Bore, dopo? Poi c'è Francesco Bore, che si sta riprendendo dopo... Ultimo personal best, Francesco Bore. È a 4,60. E poi abbiamo Vincenzo. E infatti adesso il nuovo figlio del Jumping. Un altro figlio del Jumping. Vincenzo Belardi, 4,05. Attualmente... Partono così, ma poi... Prima chista. Attualmente migliore risultato italiano. A livello nazionale. Primo italiano. Di persone che hanno raggiunto un livello altisonante. Quindi, beh, non diciamo altro. Diciamo semplicemente l'appuntamento. Ricordiamolo che si tratta di venire in Piazza Duomo. Certo. Ciao a tutti, vi aspettiamo. Ciao, ciao. Vamos.